Il taxi è già alla porta di servizio. Vai, vai con Dio. Speriamo non ti veda nessuno. Siedi qui accanto a me. Aspita, vi mandano così giovani al monastero. Buongiorno, signorina. Non mi ha mandato nessuno, ho scelto io. Se posso chiedere, ha qualche problema? Per favore, visita prima la signorina che ha fatto tanta strada. Si sta sbagliando. Non era una suora. Chi? Cristina Tofan non era ancora una suora. E nonostante questo non vuol dire nulla. Siete sicuri si è il colpevole? Pensi che se ti confessi dici solo quello che vuoi? Ora dimmi tutto. Come puoi essere mentalmente sano e coprire chi ti ha fatto questo? Quanto ci rimane? Due ore, anche meno. Portamelo. Ci siamo già visti? Ma sperodynamic. Chi not beach. Vuoi vedere chi non è morto? Cosa è morto? Quanto ci rimane su? Chi sentita?